Per noi listeners, ascoltatori, gente che segue, la musica in generale, il rap, sarebbe molto bello. Un disco salmo e nitro, boom. Guarda, sai cos'è? Che io ho la cattiva abitudine di non dire mai gatto quando non ce l'ho nel piatto, essendo vicentino. Però ne parliamo in termini, diciamo, di ipotesi belle, diciamo, wish list, cose belle. Sarebbe bello fare. Sicuramente i presupposti ci sono. Hip Hop TV, solo su Sky, canale 720.